Amici, come è stato un saluto? Io le ho chiave perché sono stato letto tardi, ben ritrovati, commentate, lasciate un like, iscrivetevi Volevo commentare con voi, insomma, un po' il Milan di ieri sera Mi hanno colpito soprattutto un paio di giocatori Uno è Pulisic Che ragazzi ha fatto, ha dato in là l'azione con un lancio millimetrico sul secondo pallo per rendersi Ha fatto un gran gol di secondo Ho visto da Pulisic, soprattutto nel primo tempo, soltanto cose buone Salta l'uomo, crea superiorità numerica Ha un passaggio davvero molto, molto interessante E mi ha stupito, non mi aspettavo potesse impattare subito così in maniera importante sulla nostra Serie A L'altro giocatore, Reinders, che ha fatto innanzitutto un assist non scontato di prima, di sinistro In quell'inserimento proprio sul passaggio di Pulisic per Giroud Che è stato bravo a mettere dentro la palla Ha corso circa 12,5 km, un giocatore che ha corso più di tutti E anche lui davvero cose molto interessanti Passaggi, sovrapposizioni, inserimenti, salvataggi In un paio di situazioni è uscito palla al piede Da zone potenzialmente molto pericolose Da situazioni pericolose Anche lui molto bene Diciamo O meno bene l'off-to-sci che magari anche per la stazza deve Deve trovare la condizione migliore Però loro due davvero impressionanti E mi hanno lasciato a bocca aperta Entrambi Ditemi anche le vostre impressioni Se soltanto il mio giudizio si è condiviso qui sotto Dal vostro osservatorio E ci vediamo presto per altri giornamenti Parleremo di mercato Ma volevo fare appunto un aggiornamento Da mio punto di vista Dopo quello che abbiamo visto ieri Prima uscita in cui mi hanno fatto un ottimo primo tempo Un secondo in cui invece Ci sono state cose non positive Ci può stare Commentate numerosi Iscrivetevi, lasciate un like Un saluto anche dai miei figli che sentite giocare sottofondo Beatrice e Riccardo Che sabato sarà lo stadio E accompagnerà i giocatori in campo Ciao